Miche ed amici di Storia di Fumetti e Cinema, ben ritrovati. Oggi un video particolare che speriamo possa essere l'inizio di una nuova rubrica. Infatti andremo a sfogliare il numero 389 di anteprima e andremo a guardare nello specifico quelle che saranno le uscite, quindi già programmate da Panini, per Marvel e per DC. Prima di iniziare però mi raccomando, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi, attivate la campanellina e commentate. Insomma, facciamolo assolutamente girare, ci manca pochissimo per raggiungere l'obiettivo dei 500 iscritti. Storie di fumetti e cinema. Dalla china alla pellicola e viceversa. E partiamo subito con quello che è il quarto numero di Night Terrors. Sostanzialmente è la conclusione appunto di questo maxi crossover DC che ha appunto coinvolto alle più grandi paure degli eroi appunto della DC Comics. Andiamola a leggere brevemente. Si conclude con un sorprendente capitolo disegnato dal nostro amatissimo Giuseppe Camuncoli, Stefano Nesi e Howard Porter. Quanta Italia c'è in questo momento nel mondo dei comics, è veramente impressionante. Insomnia è un individuo dal passato complicato, detesta la Justice League e crede che i suoi componenti non paghino mai per i propri errori. Di recente ha fatto sprofondare il mondo in un incubo senza fine, ma Batman, Deadman, del quale è uscito un fantastico volume appunto un paio di mesi fa, molto sottovalutato, andatevelo a cercare, Sandman di Neil Gaiman e altri eroi sono ora pronti a reagire. Nel frattempo la temibile Amanda Waller appunto della Suicide Squad, trama nell'ombra e si prepara a sconvolgere di nuovo gli equilibri dell'universo DC. Appunto come autori troviamo Joshua Williamson, Camuncoli Nesi e Howard Porter come appunto abbiamo già citato, uscirà a fine marzo, 21 marzo, quindi la conclusione appunto per questo crossover la troviamo a fine marzo e contiene Night Terrors Night's End, che è appunto il gran finale della saga, numero 1, 40 pagine, 5 euro. Consigliato dipende, se avete seguito la saga ovviamente sarà san dir che il finale lo acquisterete, io personalmente ho letto la saga, non mi ha fantasticamente coinvolto, magari aspetto di recuperarla tutta in un volume unico. Qua si gode parecchio, qua si gode parecchio perché arriva finalmente Batman e Robin 1, appunto la nuova serie sempre di Joshua Williamson che appunto abbiamo già visto in Night Terrors è però disegnata da un fantastico Simone Di Meo, le tavole sono veramente una cosa spaziale, cioè già in anteprima qua possiamo vedere qualcosina, ma se andate a cercare sul profilo Instagram di Simone vedrete dei lavori che sono veramente stratosferici. Il Cavaliere Oscuro e il Pettirosso torna in una nuovissima serie, scritta all'architetto DC Joshua Williamson, è disegnata al fuoriclasse italiano Simone Di Meo, fuoriclasse veramente di nome di fatto. Bruce Wayne e Damien sono i ferricorti da mesi, ricordiamoci che nel mezzo c'è anche la famosa Lazarus Planet, quindi una grande saga che ha coinvolto proprio Batman e Robin, ma per loro è arrivato il momento di riavvicinarsi e difendere insieme a Gotham City. Nel frattempo un misterioso criminale è pronto ad attuare la sua vendetta, Robin riuscirà a sfruttare le sue abilità investigative e a fermarlo, per il ragazzo meraviglia tuttavia un'altra minaccia si profila all'orizzonte, il primo giorno di scuola. Vabbè, lol, su questa frase un pochino si lolla, però questa è una storia veramente tosta, ma soprattutto ha un reparto artistico favoloso. Ci sarà il famoso Blind Pack, per carità è molto entusiasmante per chi è appassionato di Variant, io preferisco di solito acquistare appunto Variant su Variant singolarmente, qualora appunto ne considerassi appunto l'acquisto. Comunque, il fumetto sarà venduto in un pack sigillato dal contenuto segreto all'interno del quale avrai la possibilità di trovare il numero 1 in versione regular, o Variant Limited, o Variant Ultra Limited, cover esclusiva, o Variant 1 of 1, cioè 1 of 1, che è cover esclusiva, che costerà l'ira del signore che andrà in reselling tipo in 0 secondi. Però, 28 marzo, 7 euro per 56 pagine. Poi andiamo avanti con quello che è l'evento Gotham Wars in Batman 91, scritto dal nostro amico Cip Zarsky, di Tiny Howard, Jorge Imanez e Nico Leon. Gotham Wars continua con le due nuovi avvincenti capitoli, capitoli appunto che portano avanti il Batman di Cip Zarsky, che per il momento sta effettivamente ottenendo tiepidissimi risultati. A me la prima parte di questa run è piaciuta molto, devo ammettere che siamo un pochino a rilento con la seconda parte. Però, io ho assoluta fiducia in Cip Zarsky e secondo me dovreste averne anche voi. Senza considerare il fatto che Jorge Imanez è un artista favoloso, cioè sta facendo delle tavole pazzesche, io lo saluto. Ti voglio bene, Jorge, secondo me stai facendo veramente le cose incredibili. Le proposte di Catwoman hanno trasformato gli amici di Batman in nemici, chi gli volterà le spalle, il Pipistrella appare sempre più isolato, mentre gli alleati della gatta aumentano sempre di più. Chi fermerà il regno del terrore di Selina e chi sta tramando nell'ombra? Non lo so ragazzi, sono curioso sinceramente di proseguire questa run. Il nuovo equilibrio tra Bruce e Selina mi lascia un po' disorientato, soprattutto al netto degli ultimi anni editoriali, appunto che avevano visto i due essere a tanto così dallo sposarsi. Quindi vediamo, vediamo, insomma sicuramente c'è grande interesse. Il quattordicesimo numero, e questo è tanta tanta roba, questa è una serie fantastica, questa è una delle serie migliori sui supereroi in questo momento in circolazione, quindi veramente recuperatela. Sono usciti già i primi cartonati, stiamo parlando di Batman Superman, i migliori del mondo, conosciuto anche in americano come World's Finest, scritto da Mark Waid, di cui dopo andremo successivamente ancora a parlare, è disegnato da uno stratosferico Dan Mora. Bruce Wayne assassino, un miliardario appena stato ucciso, e l'alter ego di Batman è il sospettato numero uno. Con la libertà e la reputazione del loro amico in gioco, Superman, Robin e Metamorfo uniscono le forze per scagionarlo. Come? Trovando il vero assassino, prima che colpisca di nuovo. Appunto, 24 pagine, 3 euro, quindi assolutamente accettabile, e contiene Batman Superman World's Finest numero 14. È veramente tanta roba, questa serie la dovete davvero recuperare, è una lettura piacevolissima, scritta molto bene, ci porta in atmosfere sconnesse più o meno dalla continuity attuale, e ci mostra veramente un super rapporto tra Bruce e Clark. È veramente una gran bella serie, disegnata molto bene, è secondo me proprio il fumetto supereroistico per Antonomasia, cioè riesce ad equilibrare perfettamente quelle che sono un po' le caratteristiche tradizionali del mondo supereroistico in un contesto contemporaneo, e per questo secondo me è proprio un must buy, mi raccomando, compratelo. Passiamo a Joker, l'uomo che ha smesso di ridere. Numero 11, dopo i brividi di Night Terrors, torna la serie di Matthew Rosenberg, incentrata sul duello fra Joker e il suo misterioso sosia. Molto interessante questa run, veramente molto interessante. La loro rivalità sta per travolgere Gotham City, chi di sosterra in battaglia, e chi è l'impostore tra i due. Nel frattempo Redwood si sta recando a Blackgate, ma qualcuno segue le sue mosse. E Batgirl, in una storia breve, disegnata al fuoriclasse Francesco Francavilla, mostrerà ancora una volta la sua intraprendenza. Altro numero, poco da dire, pregno di italianità, ormai bisognerebbe veramente... Cioè, c'è quasi più Italia che Stati Uniti nei fumetti americani oggi, perché ai testi troviamo Matthew Rosenberg, ma troviamo anche le tavole del nostro super. Carmine Di Giandomenico, Stefano Raffaele, Francesco Francavilla. Cioè, un numero di Joker, praticamente tutto italiano, mancava che lo scrivesse un autore italiano, ed eravamo a posto. Anche qua, 32 pagine, 3 euro, quindi il solito e tradizionale spillatone, e contiene The Joker, l'uomo che ha smesso di ridere, appunto, numero 9, della numerazione americana. Poi, con questa stupenda illustrazione, appunto, ci viene annunciato Superman 7, di Philip Kennedy Johnson e Rafa Sandoval. Il movimento Terra Blu tiene la super famiglia sotto scacco, quindi proseguono le avventure, appunto, della nuova serie regolare dedicata all'Azzurrone. Il nuovo corpo cibernetico di metallo si sta evolvendo in un orrore senza nome, ed è subito guerra fra i due uomini d'acciaio di Metropolis. Ma cosa succede quando le due minacce si fondono in un unico abominio? Molto interessante, Run è partita molto bene, veramente piena di elementi che la rendono assolutamente interessante. Questo, secondo me, sarà un grande anno per Superman, ovviamente portando quello che è già stato pubblicato appunto negli Stati Uniti e quello che si prospetta di essere pubblicato negli Stati Uniti, quindi tenete veramente d'occhio Superman e considerate l'idea veramente di recuperare lo spillato dal numero uno. Super, super starting point spillato per tutti i nuovi lettori di Wonder Woman, perché appunto inizia il ciclo di Tom King sul personaggio. Questo, ragazzi, è veramente un grande acquisto. Questo mese è tosta, questo mese mi sa che si fa ballare parecchio la fresca. Autori Tom King e Daniel Samper si parte appunto con un nuovo numero. Io sono in pari con la numerazione americana e devo dire che questa serie è la grande sorpresa di fine 2023, per me, in casa di sì, perché si stanno andando a toccare dei temi estremamente complessi ed estremamente attuali, ma in maniera banale, ma in maniera banale. Ovviamente questa è una serie che ha dato da pensare tantissimo ai criticoni della cultura woke, quelli che ovviamente vorrebbero la fine della dittatura del politicamente corretto. State fuori dal mondo del fumetto, per favore, statene fuori, per sempre. Inizia una nuova era per Diana, la superstar Tom King, appunto autore di Human Target, assolutamente un must buy, e l'astronascente Daniel Samper, che ha appunto disegnato Crisi Oscura sulle terre infinite, danno vita a un ciclo narrativo destinato a fare la storia. Questo è un po' pretenzioso, andremo a vedere, però effettivamente per ora si è partiti molto bene. Dopo un sanguinoso evento, il congresso nega alle Amazzoni di poter entrare nei confini statunitensi, Wonder Woman è ora una fuori legge nel mondo che ha giurato di proteggere. Contiene un solo numero, appunto, della numerazione americana, 32 pagine, 3 euro, è un po' un peccato che su questa cosa non si facciano Variant su Variant, perché partire bene con questa serie secondo me sarebbe stato carino, però giustamente Panini non voleva neanche sovraffollare il mercato nello stesso periodo appunto in cui esce anche Batman e Robin con tutta la sua barcata di Variant e il Blind Pack, quindi ci può stare. Però veramente se volete iniziare a leggere un Wonder Woman questo è un ottimo momento per farlo. Prosegue e termina il Flash di Jeremy Adams appunto contiene il numero 800 della serie peccato perché stava facendo veramente un grandissimo lavoro anche se quello che ci aspetta ha comunque da che stupirci. Un albo speciale per celebrare l'ultimo numero della nostra serie e l'ottocentesima uscita americana perché infatti contiene il Flash numero 800 5 team creativi che hanno fatto la storia di Flash 5 storie speciali. Il saluto definitivo di Jeremy Adams e il ritorno di Mark Waid che signori ha scritto la run più importante sul personaggio insieme a Geoff Jones che potete recuperare in formato omnibus Joshua Williamson e appunto Geoff Jones quindi un pochino i tre autori più importanti degli ultimi vent'anni su Flash senza ombre di dubbio. Inoltre il prologo della nuova serie scritta da Seas Purer e illustrata da Mike Deodato Junior sul quale ho e avevo sinceramente un po' da ridire nel senso che appunto passare dai disegni al fulmicotone così accesi così vivaci che ben si sposavano col personaggio di Wall-E della run di Jeremy Adams a passare a Mike Deodato Junior che secondo me è un po' in calo già da una decina d'anni e che soprattutto ha uno stile di disegno molto statico non è che sia proprio entusiasmante comunque vedremo 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 devo dire che ho letto i primi due numeri americani della 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 Randy Seas Purer e ci sono dei temi molto croccanti insomma quindi questa serie ragazzi è veramente notevole mi è piaciuta moltissimo il flash di Jeremy Adams io l'ho recuperato appunto in americano però considerate l'idea appunto di acquistarlo in spillati italiani o in cartonati appunto passiamo ai DC bestseller che sono appunto i formati bonellidi dedicati alle grandi storie DC in questo caso parliamo della Justice League di Grant Morrison che a un certo punto smette di essere di Grant Morrison non so se vi ricordate ma nel video acquisti appunto pubblicato qualche settimana fa vi avevo raccontato di aver acquistato l'omnibus di Planeta dedicato al ciclo di Mark Waid che torna per la terza volta già in questo numero di anteprima si conclude l'acclamata gestione di Mark Waid appunto all'interno di questo numero perché come vi raccontavo nel video al termine del ciclo di Grant Morrison e anche in certi momenti in mezzo appunto Mark Waid ha gestito Justice League of America e ha fatto le storie favolose appunto i marziani bianchi proseguono il loro attacco alla terra e alla Justice League nella speranza di sovvertire l'esito della battaglia superman e compagni si rifugiano nella fortezza e la solitudine il mondo è stato giokerizzato dal principe pagliaccio e il crimine riuscirà la league a riportare la situazione alla normalità troviamo i testi Mark Waid e i disegni Mike Miller formato appunto tascabile da 4,90 euro e contiene Justice League of America dal 57 al 60 quindi 3 issue grandissima serie poco da dire se avete recuperato gli omnibus dedicati a Grant Morrison e Mark Waid sicuramente non ne avete bisogno se invece state cercando un modo per recuperare questa gloriosissima saga dedicata appunto alla Lega ecco questo è il formato giusto per farlo poi proseguiamo sempre rimanendo nei bonelli di al diciottesimo numero di Lanterna Verde di Game of Jones è arrivata appunto la maxi saga della notte più profonda uno degli eventi più importanti della storia del personaggio e della storia della DC appunto pre New 52 cioè quando c'è stato il grande reboot appunto dell'universo DC l'oscura minaccia legata alla misteriosa luce nera che ci ha accompagnato per 6 numeri è infine giunta fra noi nessun eroe al sicuro quando i morti risorgono dalle loro tomba per prosciugare la vita e ogni emozione esistente l'inizio di un evento che ha fatto la storia dell'universo DC appunto come dicevamo poco fa troviamo ai testi di Game of Jones e alle matite dei super talenti come appunto Ivan Reis Doug Mackey Eddie Burroughs e poi Autorivali insomma anche in questo caso appunto formato formato tascabile da 4,90€ con all'interno Green Lantern numero 44 Blackest Night Tales of the Corps numero 2 e Blackest Night dall'1 al 2 quindi appunto l'inizio di quella che è effettivamente la maxisaga la notte più profonda io sto seguendo questa questa grande saga del personaggio proprio in questo formato e nonostante all'inizio non mi stesse colpendo particolarmente soprattutto per la narrazione un pochino piatta da encefalogramma piatto mi dispiace dirlo di Game of Jones sul personaggio che me lo rende ahimè un insopportabile super sbirro devo dire che è arrivato già al corpo di sinestro che è la prima grande saga effettivamente di questa run inizia a mettere il piede sull'acceleratore quindi lo sto trovando molto interessante imprescindibile per i fan del personaggio assolutamente e per chi vuole iniziare a leggere appunto la lanterna verde Mark Waid Mark Waid Mark Waid mio padre mio zio mio nonno insomma chiamatelo come volete si arriva con un'uscita gustosissima che un pochino mi aspetta mi guarda proprio il portafogli dritto negli occhi perché questa è la legione dei supereroi di Mark Waid proposta in formato DC Library 392 pagine quindi un bel volumozzo a 38 euro che non sono neanche pochissimi però diciamo che per storie di questo tipo per autori di questo tipo si fanno pagare e contiene proprio la legione dei supereroi appunto scritta dal nostro dal numero 1 al 13 e il crossover con i Teen Titans del 2004 l'universo sta vivendo un'era di pace e prosperità ma anche di stagnazione a ribellarsi contro questa indolenza ci pensa la nuovissima legione dei supereroi Cosmic Boy e Brainiac 5 che è questo simpatico tizio tutto verde con i capelli gialli che vedete in copertina si contendono alla leadership del gruppo e di conseguenza quella di tutti i teenager della galassia desiderosi di sottrarsi alla dittatura degli adulti ora per contestualizzare un pochino la legione dei supereroi è un super team di eroi provenienti dal futuro e da diverse ere temporali potentissimi però simpere appunto teenager ed è molto interessante vederli scontrare proprio con i Teen Titans che sono il Teen Team per eccellenza in casa di Mark Waid e Barry Kitson ricreano il mito della legione dei supereroi dando vita a una storia che ha appassionato vecchi e nuovi lettori e questo per me è un must buy del mese questo me lo compro senza se e senza ma se siete avvezzi al mondo di Superman avrete letto magari delle storie con un giovanissimo Superman Superboy protagonista e simbolo proprio della creazione della legione dei supereroi è molto interessante c'è veramente tanta ciccia nel quale addentrarsi poi passiamo a Lanterna Verde Al Jordan volume 1 di nuovo in azione questa è la nuova serie appunto protagonista il nostro verdolone Al Jordan che vede il ritorno di sinestro questa volta scritto da Jeremy Adams che passa appunto da Flash a Lanterna Verde disegnato Axermanico e Scott Godlebski primo volume che raccoglie il numero dall'1 al 6 di Lanterna Verde in cartonatone a 21 euro i guardiani dell'universo sono scomparse il settore spaziale della terra è stato dichiarato off limits solo una Lanterna Verde decide di violare questa imposizione galattica e di proteggere il suo pianeta natale Jeremy Adams ex Hermanico che ha già disegnato Batman Flashpoint Beyond quella serie che va a riprendere l'universo narrativo di Flashpoint e approfondisce il personaggio di Thomas Wayne lancia una nuova e appassionata serie che ridefinisce il lato cosmico dell'universo DC interessante non sono sicuro di acquistarlo ci penso ci faccio un pensiero questo invece questo porco Giuda questo potrei veramente comprarlo Titans volume 1 fuori dall'ombra questo è appunto un cartonatozzo che raccoglie i primi 5 numeri della run di Tom Taylor sulla nuova formazione dei Titans che nuova non è in buona sostanza perché va a raccogliere quelli che sono appunto stati i membri storici che oggi i teen non sono più mica il ritorno in grande stile di uno dei super team più amati di casa DC sì veramente davvero uno dei più amati dopo la scomparsa della Justice League in crisi oscura sulle terre infinite serve una nuova squadra di heroine per difendere la terra i Titans che teen appunto ribadisco non sono più anche perché Nightwing ormai è bello che adulto Wall e addirittura ha due figli quindi insomma Starfire Nightwing Raven Flash Donna Troy Cyborg e Beast Boy di nuovo tutti insieme una serie realizzata da due firme di pregio l'acclamato Tom Taylor che già sta scrivendo un fantastico ciclo su Nightwing che dovete assolutamente recuperare e l'apprezzatissima Nicola Scott ai disegni molto tradizionale nello stile e questo è un ottimo starting point per chi vuole leggere dei Titans cresciuti molto divertente comunque io appunto questi numeri li ho letti e mi sono piaciuti moltissimo quindi ve lo straconsiglio passiamo a Batman The Brave and the Bold volume 1 la carta vincente appunto volume che raccoglie i numeri della serie omonima dall'1 al 2 il numero 5 e il numero 9 scritti a Tom King e disegnati da Mitch Gerralls una nuova avventura firmata a Tom King il team creativo vincitore del premio Eisner assolutamente alle prese con una storia in quattro parti interamente raccolta in un volume cartonato il primo sanguinoso scontro tra Batman e Joker questa è una storia molto interessante che vuole proprio darci un come posso dire un occhio nuovo su quello che è stato il primo scontro tra il principe del crimine e il cavaliere mascarato di Gotham odio bugie risate in un racconto che ci riporta alle origini del pipistrello consigliatissimo assolutamente non proprio economico perché stiamo comunque parlando di un volume cartonato da 112 pagine a 18 euro però è una bella storia quindi se ce l'avete nei radar se avete intenzione di recuperare tante cose dell'uomo pipistrello questo mese ecco questo è sicuramente un bel acquisto avanti con Batman Red Hood sotto il cappuccio questo è un maxi evento dei primi anni dei primi anni 2000 che riporta fuori dalla tomba appunto Jason Todd e crea definitivamente il personaggio di Red Hood quindi se siete dei fan del personaggio sicuramente è una buona occasione per recuperarlo a Gotham City qualcuno si sta opponendo al crimine organizzato ma i suoi metodi sono ben diversi da quelli di Batman quindi andremo proprio a scoprire come Jason Todd è sopravvissuto alla morte nel famoso numero appunto di Batman in cui viene ucciso dal Joker e ucciso soprattutto dai fan che all'interno del sondaggio storico votarono per la sua morte e come si posiziona all'interno di quello che è un pochino lo scenario di Gotham City la storia è scritta a Jude Winnick disegnata a Dog Monkey Tom Goyen scritta anche a Jeff Loeb quindi insomma raccoglie tanti elementi interessanti tra cui Batman dal 635 al 641 645 al 650 l'annual del l'annual numero 25 Red Hood i giorni perduti dal 1 al 6 e materiali sparsi da Batman insomma quindi c'è tanta roba in questo volume se siete appassionati di Red Hood effettivamente ha molto senso altrimenti un po' passabile diciamo potete recuperarlo anche in edizioni più antiche anche sull'usato stiamo parlando di un volume porco Giuda da 49 euro 544 pagine però attenzione di ciccia ce n'è passiamo a Damien il figlio di Batman disegnato dal fantastico Andy Kubert questa questo è un volume che invece ecco se posso darvi un consiglio sincero tra il volume che abbiamo visto prima e questo vi consiglierei più di recuperare questo qua scritto da Grant Morrison sua maestà di cui abbiamo parlato anche poco fa proprio trattando quella che è la pubblicazione della sua Justice League è disegnata da un fantastico Andy Kubert 176 pagine 23 euro contiene Damien son of Batman del 2013 dal 1 al 5 e Batman 666 e 700 una storia scritta e disegnata attenzione dal grande Andy Kubert in un lontano futuro il nuovo ospedato Batman è Damien Wayne una distopia tenebrosa che affonda le sue radici nel celebrato ciclo di Grant Morrison e contiene anche un ricco apparato di dietro le quinte contenuti bonus consigliatissimo poco da fare se l'avete già trovo superfluo recuperarlo in un'altra edizione anche se il volume sembra molto interessante molto bello e ben fatto se non sapete poco o nulla di Damien e volete approfondire il personaggio ragazzi this is the right choice il sesto volume del Nightwing di Tom Taylor andiamo avanti ragazzi da prendere assolutamente un volume interessantissimo che prosegue appunto le avventure del nostro del nostro amato Dick Grayson appunto sulle pagine di Nightwing che vengono raccolte in questo volume dal 101 al 105 assolutamente da recuperare poco da fare secondo me è una delle serie più interessanti in casa di Si veramente veramente bella New Teen Titans di Wolfman e Perez volume 11 prosegue la raccolta in maxi cartonati in questo caso parliamo di un 248 pagine al costo di 29 euro che raccoglie la leggendaria run di Marvel Wolfman e di George Perez appunto sul team di cui abbiamo parlato mi pare di capire che da quest'anteprima sia un pochino il mese dei Teen Titans se non avete letto ovviamente i Teen Titans di Marvel Wolfman insomma vi siete fatti un pochino un torto una storia stupenda da recuperare i volumi non sono proprio leggerissimi se non vi piace il fumetto anni 80 potreste fare un pochino fatica io ve lo consiglio poi pensateci The Company Direct DC Eventi viene pubblicata Mondi in Guerra volume 1 allora questo volume vuole un pochino raccogliere quella che è stata una maxi una maxi saga per raccontare un nemico introdotto da Jeff Loeb all'interno del suo ciclo di Superman all'inizio degli anni 2000 tra la fine degli anni 90 all'inizio degli anni 2000 cast di autori coinvolto è veramente spaziale parliamo appunto di Jeff Loeb autore di Batman il lungo Halloween Catwoman vacanze romane insomma tutte le grandi storie di Batman disegnate anche da Tim Sale così anche della famosa trilogia anzi saga perdonatemi dei colori Hulk grigio Spider-Man blu eccetera Joe Casey Mark Schulz Doug Monkey Bill Sinkiewicz che è un maestro favoloso Philly Maness e Mark Buckingham firmano un epico evento di sì senza precedenti e infatti il volume raccoglie sostanzialmente tutte quelle che sono i tie-in dell'evento raccolti sulle diverse serie dell'epoca molto interessante un evento che per me non è invecchiato parecchio l'ho recuperato su dei vecchi volumi della planeta di Superman e mi è piaciuto molto quindi assolutamente ve lo consiglio wow Stormwatch di Warren Ellis volume 1 eccolo qua il mio prossimo acquisto presente all'interno di questo numero 389 di anteprima una nuova era un tuffo negli anni 90 nelle storie che hanno ridefinito Stormwatch yes it's wild storm era baby il ciclo di Warren Ellis raccolto in una serie di volumi cartonati è pronto a diventare una vera e propria forza d'attacco e non si fanno prigionieri il revisionismo supereroistico di Ellis comincia tra queste pagine prima di The Authority quindi su questa serie Warren Ellis inizia a scrivere quello che è il suo concetto di super team per poi portarlo avanti in The Authority fumetto capolavoro che proprio adesso appunto Panini sta ristampando nel formato absolute autori Warren Ellis e Tom Rainey sono storie degli anni 90 quindi come potete benissimo intuire muscolazzi super armi robe cibernetiche super fighe pette però ragazzi importante questo è assolutamente lo recupero e raccoglie i numeri di Stormwatch dal 32 al 47 quindi appunto la prima parte di quello che è stato fatto da Warren Ellis sul sul team 296 pagine 32 euro cartonato si piglia questo invece ce l'ho quindi ce l'ho in un altro formato quindi non lo recupererò in quest'altro ma ovviamente se volete fare un tuffo in quelle che sono le atmosfere un pochino revisionistiche sul tema del super eroe non potete non recuperare The Authority veramente un ciclo fondamentale poco da dire su questo volume nel senso in questo caso vengono raccolte le storie di Mark Miller che subentra proprio a Warren Ellis nella gestione del team accompagnato da un Frank Quietly che è un disegnatore stratosferico in stato di grazia quindi veramente poco da dire in questo caso parliamo di un volumone tradizionale appunto absolute con slipcase 70 euro non pochi però vi dico anche che considerando quello che è il prezzo dei volumi dell'usato di questa saga appunto ci può stare alla grande quindi considerate assolutamente l'acquisto passiamo poi a un omnibus che francamente non mi entusiasma vi dico la verità cioè quello dedicato al periodo da super spia di Dick Grayson Dick Grayson è morto almeno questo è ciò che Batman vuole farci credere in questo periodo in buona sostanza il personaggio viene iscritto a Tom King che invece è un attore fantastico le storie sono sicuramente interessanti però è un periodo che a me proprio del personaggio non ha colpito l'ho sempre preferito come Nightwing e appunto vediamo il nostro diventare una super spia volume interessante certo 792 pagine con sovracoperte contiene sostanzialmente tutto quello che riguarda quel periodo nello specifico e beh dio per chi è interessato al mondo di Robin può essere interessante io l'ho letta e non la recupererò in questo volume questo invece è veramente un questa è una roba grossa veramente grossa DC Omnibus universo DC di Jack Kirby wow ok il leggendario Kirby ha le prese con l'universo DC nei suoi anni alla DC Kirby non ha solo creato personaggi come Demon e Omak ma ha dato fondo alla sua vena artistica realizzando alcune delle tavole più innovative della storia del fumetto dei supereroi alla fantascienza distopica dal misticismo alle storie di guerra nessun genere è sfuggito all'interpretazione del re dei comics inoltre 12 storie tratte da Warfighting Forces ambientate durante la seconda guerra mondiale tra i racconti più personali che Kirby ha realizzato perché vi ricordo che il re Jack Kirby ha combattuto la guerra quindi è un uomo che ha veramente ucciso nazisti quindi c'è tanto del suo racconto personale all'interno di queste storie poco da fare ragazzi nel senso se siete completisti e volete scoprire quello che il grande re cofondatore dell'universo Marvel ha realizzato sulle pagine DC questo è un volume assolutamente da comprare raccoglie veramente una serie infinita di racconti da diverse serie tra cui Demon Sandman Nomac 114 euro per 1480 pagine per me è un prezzo assolutamente in linea con quello che presenta e ragazzi stiamo parlando del Goat The Greatest of All Time è veramente uno dei più grandi maestri del fumetto di tutti i tempi quindi sta molto a gusto personale e voglia di completismo fumetto che è ispirato alla miniserie Netflix 4 omicidi 4 detective 4 epoche diverse lo stesso corpo allora volume che raccoglie in appunto volume unico gli otto numeri di bodies del 2014 interessante assolutamente interessante può essere una bella chicca del mese appunto una storia inquietante affascinante un giallo impossibile che è diventato una miniserie per Netflix se siete proprio appassionati a questo genere di storie thriller e horror può essere veramente un bello acquisto il soldato fantasma di Gar Tennis si procede a far uscire più o meno tutto il lo scibile possibile immaginabile di Gar Tennis pubblicato in casa DC e anche in casa Marvel in questo caso raccoltona della saga del 97 dall'1 al 4 appunto in un cartonato da 18 euro 112 pagine non male devo dire non male storia d'onore spionaggio scritta da Hennis vabbè già autore di lo saprete The Boys disegnata da Kilian Plunkett cioè il disegnatore di Superman Red Son beh bel volume bel volume interessante non ce l'ho potrei considerarlo lo segue Fables con il diciannovesimo volume che appunto raccoglie i numeri dal 114 al 123 124 e 129 168 pagine 17 euro qui ovviamente se state seguendo le vicende di Fables è la ripubblicazione appunto di sì di questa maxisaga è essenziale altrimenti recuperarla dall'inizio è sicuramente un'opera poco economica però ne vale sicuramente la pena nono volume per Lucifer crocevia 168 pagine 17 euro appunto contiene i numeri dal 55 al 61 della serie dedicata al personaggio poi raccontato sulla serie Netflix come autori come autori Mike Carey Peter Gross Ryan Kelly Mark Ampel e poi autori vari bene 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 piatto ricco mi ci ficco perché è appena uscito da pochissimo il video che abbiamo dedicato al primo numero di Ultimate Spider-Man uscito negli Stati Uniti questa settimana e attenzione perché eccolo qua data fine marzo Jonathan Hickman disegno di Marco Checchetto Ultimate Spider-Man volume 1 dispotibile anche con Variant in doppio PVC al prezzo di 10 euro c'è veramente poco da dire ragazzi compratene 12 copie questo è un fumetto fantastico ottimo starting point per quello che è l'universo Ultimate anche se meglio se recuperate Ultimate Invasion e Ultimate Universe che sarà uscito più o meno un mese prima mi permetto di aggiungere rispetto al video di Mario che questo è un fumetto che dal primo numero ha risvegliato in me qualcosa che non sentivo per l'Uomo Ragno da un sacco di tempo da un sacco e se avete la mia età o avete qualche anno in più o avete qualche anno in meno secondo me questo è il Peter che parla a voi che si rivolge a voi che vi guarda negli occhi e vi dice questo è il mondo di merda in cui viviamo è assolutamente recuperato poco da dire veramente prendetelo prendetene e mangiatene tutti e altra grande uscita con una variant che prendo ok eccoci qua con la variant che compro del mese perché esce Capitan America numero uno scritto da J.M. Straczynski conosciuto in Italia anche come Stracchino per semplificarne un pochino il nome l'inizio di una nuova era per la sentinella della libertà questo è il numero uno perfetto per iniziare a leggere Steve Rogers nella variant disegnata da Frank Miller che in americano è esaurita in dodici salse diverse ci verrà regalato anche un portachiavi scudo di Cap ciao Capcomics questo me lo leggo veramente alle chiavi della macchina io amo Capitan America quindi non posso che perdermela cioè non posso non perdermela questa uscita una serie che in americano sta veramente facendo faville e è un ottimo numero per iniziare io andrò proprio di variant a 10 euro chi se ne frega non posso perdermela continua appunto il numero uno 32 pagine spillatino però questa la recupero davvero proseguiamo con le uscite appunto spillate a Missing Spiderman 38 porta avanti la serie regolare dell'uomo ragno scritta a Zeb Wells e disegnata da Ed McGuinness in questo numero e Patrick Glazon due autori fantastici che lasciano un pochino spazio che prendono un pochino lo spazio lasciato da John Romita Jr in questo momento si conclude la prima caccia di Spiderman una delle storie più spaventose mai apparse sul quindicinale Dio avvocato parliamone Peter Parker ne uscirà indenne avrà bisogno di aiuto per tornare quello di prima senza altro al suo fianco ci sarà la sua fedele spalla Rick Rapp personaggio interessantissimo appunto che vediamo nell'illustrazione appena sotto introdotta proprio nello Spider-Verse è una sorta di Peter sbroccato di un universo parallelo molto animale molto brutto e infatti in Amazing Spider-Man 39 l'uscita successiva appunto rivediamo Rick Rapp in questa bellissima cover e ci viene introdotto Game War che è appunto la prossima maxisaga urban dell'universo Marvel quindi molto molto curioso di iniziarla perché ancora non l'ho letta in americano e mi interessa mi interessa parecchio siamo a Miles Morales Spider-Man 10 una storia di Gang War quindi iniziano anche quelli che sono i vari tie-in appunto legati all'evento ultimo capitolo per sangue cattivo con Blade e sua figlia Bloodline personaggio molto interessante appunto introdotta sulle pagine di Blade i vampiri sono a Brooklyn e Miles Morales è un boccone appetitoso tasty ospiti speciali le figlie del drago questa serie sta spaccando questa serie dedicata a Miles sta veramente spaccando e mi sta piacendo tantissimo poi Venom 24 che porta avanti appunto la numerazione dal numero 1 scritto da Ewing è un periodo un pochino di pausa per Ewing in questo caso gli autori sono Turun Grunbeck e Julius Ditta Venom torna alla foliazione al prezzo regolare perché si riparte con volumi da 24 pagine a 3 euro questo contiene appunto Venom 26 una nuova persona un simbionte e il suo nome è Natasha Romanoff leggete qui la prima avventura della nuova vedova nera un numero perfetto per i nuovi lettori io stavo bene con Ewing e queste cazzate di venomizzare tutti i personaggi mi lasciano sempre un po' così però comunque per carità se siete fan della vedova e delle venomizzazioni e delle variant di marvel snap venom può essere interessante gli incredibili avengers questa è la serie che un pochino raccoglie gli esiti del galà infernale perché ci racconta appunto le avventure di questo team vendicativo mutante più mutante che vendicativo con la presenza però forte di capitano america che si schiera come al solito dalla parte dei giusti tutti pronti a scoprire che si nasconde sotto la maschera del finto capitano kracoa quello che spoiler negli eventi appunto del galà infernale ha attaccato il senato americano capitano america ha già un sospetto e ben uric appunto scrittore giornalista del daily bugle è pronto a rischiare la vita per aiutarlo intanto la squadra unione torna a scontrarsi con il fronte liberazione mutante scritto da jerry duggan che sta scrivendo anche che ha scritto anche x-men di cui appunto leggiamo già e vediamo la preview appena sotto contiene appunto il numero 3 di uncanny avengers interessante bella serie ragazzi bella serie jerry duggan sta per assurdo autore criticatissimo per la suggestione di alcuni personaggi secondo me sta scrivendo molto bene una serie che è però gestita dalle decisioni dall'alto appunto di jonathan hickman quindi secondo me sta facendo veramente molto bene il suo lavoro x-men 3 appunto di jerry duggan ci porta invece quello che è lo scontro tra il fenomeno e firestar convinto che sia una traditrice che vuole ucciderla invece se avete letto il gala infernale saprete che firestar sembra una traditrice ma non lo è cose se state seguendo fall of x sicuramente continuerete a seguirne appunto le vicende non mi sta entusiasmando quanto le fasi precedenti appunto della storia mutante però sono curioso di vedere come arriveremo effettivamente alla fine dell'epoca cracoana e se ci sarà effettivamente questa fine dell'epoca cracoana perché nulla è così scontato sinceramente l'invincibile iron man 12 sempre unito alle vicende di fall of x perché tony stark si è sposato con emma frost degli x-men quindi come lo scoprirete appunto l'avrete già scoperto ha un grosso problema perché appunto gli sono state rubate tecnologie stark per realizzare delle sentinelle malvagie scritta da jerry dagan che qui per esempio per me non sta brillando per niente io per completismo su fall of x potreste recuperarla o perché siete appassionati di tony e state andando avanti col personaggio secondo me jerry non sta facendo un bel lavoro su iron man trovo i dialoghi soprattutto molto piatti molto spersonalizzati non mi sta facendo impazzire mortal x-men di kiron gillen è un ottimo numero è un ottimo numero di un'ottima serie xavier affronta sinistro ma è quello vero o è un suo spettro destiny scopre la verità su madre virtuosa forse è troppo tardi su aracco nella guerra fra tempesta e genesis entra in campo apocalisse ma con chi si schiererà en sabah nur quindi vediamo anche un pochino quello che sarà il termometro politico di apocalisse che è un peso massimo dell'universo mutante che per ora su fall of x e su quello che è successo a cracoa non ha detto un beh e un bah e poi wolverine 42 eliminati i suoi cloni wolverine ha un nuovo obiettivo nel mirino orcis ma per colpire a fondo l'organizzazione antimutante ha bisogno di alleati che ne dite di capitan america e black panther per cominciare bellissima questa cover due racconti per un albo di 56 pagini scritto dal sempre ottimo benjamin persi e huancosè rip interessante bella serie benjamin persi sta portando avanti benissimo le vicende di logan e soprattutto vediamo anche un pochino quello che è il suo polso in merito all'orrore che abbiamo visto al gala infernale x force 43 appunto ci presenta lo scontro tra colosso e il fratello mikhail intanto sage e domino vanno al salvataggio del resto di x force con un aiutino mistico pari papù l'ho lasciata devo ammetterlo un po' di tempo fa anzi sapete che c'è se la leggete fatemi sapere come sta andando avanti x force se merita la pena puoi recuperarla integralmente andiamo avanti con fall of x perché abbiamo x-men fall of x volume 4 che è un volume appunto che raccoglie storie dedicate alla caduta della casata di x appunto con realm of x san kenny spider-man alpha flight astonishing ice man children of the vault e jean gray superfluo nel senso se volete leggere le avventure dell'incredibile spider-man che altro non è che night crawler che prova a fare l'uomo ragno di quartiere con un costume molto figo in realtà potete recuperarlo sicuramente insieme agli altri volumi come appunto il volume 5 altrimenti per me è estremamente superfluo abbiamo il rilancione di miss marvel dato che sulle pagine dell'uomo ragno abbiamo scoperto appunto che era sostanzialmente una mutante e ormai dovreste saperlo miss marvel è una mutante morte in azione risorta a krakow ora deve vedersela con orcis oltre a riprendere il suo posto nel mondo come kamala khan una storia scritta di iman vellani interesting cioè è proprio la stessa nostra kamala nell'mcu a scrivere la nuova serie di kamala contiene appunto i numeri dall'1 al 4 cartonato 15 euro questo lo prendo lo prendo avete capito bene lo compro daredevil 4 questo è appunto il quarto numero della nuova gestione di daredevil dopo la la fine del gloriosissimo ciclo di chip zarsky bullseye si presenta nella nuova vita di matt mardo che elskitchen si ritrova nel fuoco incrociato non è i livelli di quanto fatto da chip precedentemente però è molto croccante per ora quindi penso proprio che andrò avanti proprio come fantastici 4 che sta riscontrando tiepido successo se non anche delle critiche invece a me questa gestione di ryan north e i banco bello i banco eio sta piacendo moltissimo sinceramente ha proprio la classica atmosfera delle storie di fantastici 4 che piacciono a me quindi familiari divertenti ma anche capaci di introdurre elementi del fantastico questa cover di alex ross con il dottor destino a bordo di un robo dottor destino dinosauro per me è oro oro avengers 7 porta avanti invece le trame di jade mckay appunto ecco mirdy nella sua corte del crepuscolo dopo aver sconfitto facilmente kangora devono affrontare gli avengers ma i vendicatori sono bloccati in un mondo da incubo e possono contare solo su un unico membro per questa battaglia impossibile a me sta intrattenendo non mi fa impazzire ma mi sta intrattenendo e quindi sicuramente se volete anche una lettura un pochino cacciarona per quanto mi riguarda degli avengers questa può essere larangiusta incredibile hulk invece per me oggi è una delle migliori serie a fumetti pubblicate negli stati uniti poco da dire philip kennedy johnson nick klein ne abbiamo parlato in tutte le salse del mondo possibili sui nostri canali social e mi raccomando seguiteci anche di questo è il numero 7 che porta proprio avanti quello che è lo scontro tra hulk e i freak i mostri dell'universo marvel ghost rider ha fiutato dei demoni malvagi intenti a terrorizzare una piccola comunità i diavoli della guerra sferrano il loro letterattacco charlie è pronto a sfidarli per dimostrare tutto il suo valore ma hulk dovrà intervenire prima che la ragazza finisca in guai seri prosegue questa avventura nell'america profonda horror dalle atmosfere fortissime disegnata magnificamente da nick klein per me questa è una serie assolutamente da leggere sono contentissimo di rileggere hulk con questa fog imperdibile come imperdibile l'altro fumetto per me migliore in casa marvel oggi cioè immortal thor di aliwing disegnato uno stratosferico martin coccolo veramente stratosferico in questo numero vediamo il tonante incontrare tempesta che in questo momento è la regnante di marte per gli amici aracco per affrontare thoranos il thor antico e malvagio questa versione praticamente arcaica di thor il tonante non può combattere da solo sul lato oscuro della luna dovrà arrollare alleati che lo sostengono ma la signora dei venti vorrà immischiarsi nelle faccende di thor spoiler alla fine si quindi recuperatelo ma di che cosa stiamo parlando questa serie stratosferica leewing porta avanti il suo il suo come posso dire leitmotif degli immortali e va avanti con thor e martin coccolo è stato veramente di grazia avete anche visto le tavole che abbiamo pubblicato sui nostri canali social e must buy veramente meraviglioso meraviglioso next andiamo a vedere quello sempre che è il formato bonelli de marvel marvel integrale lo spider man di de matteis numero 38 anche qua autori leggendari de matteis de falco luke ross deodato junior all'inizio quando ancora brillava di luce la splendida cover che vediamo appunto di gli incredibili x-men 63 un numero bellissimo tra l'altro che conclude l'era australiana con appunto la storia di clermont e mark silvestri e meraviglioso meraviglioso prima o poi mi compro tutto tutto marvel integrale di chris clermont perché lo voglio lo voglio completo questo è c'è poco da dire è veramente fanservice sfrenato può anche essere divertente per chiarità però io l'ho letto e non ve lo consiglio sinceramente la morte del venomers che raccoglie appunto storie varie di quello che è il seguito dell'extreme xenonverse venomverse perdonatemi l'agente l'agente venom ha riunito tutti i venom per un solo scopo fermare carnage una storia completa scritta al co-creatore di venom ambientata agli inizi della sua carriera l'esordio di kid venom è una storia scritta e disegnata al manga kataigami interessante soprattutto per la varietà di disegni e di stili grafici però personalmente è un po' fuffa vi dico la verità proseguiamo l'avventura di scarlet witch invece disegnati dalla nostra meravigliosa sarah picchelli c'è tanta ma quanta italia lorenzo tammetta questo volume raccoglie appunto la seconda parte della run dedicata al della nuova run dedicata a scarlet i numeri dal 6 al 10 interessante mi sta mi sta interessando mi sta intrigando questa serie era stata consigliata ad amici e la sto apprezzando pur non essendo un fan di scarlet quindi sicuramente un acquisto croccante x-men giorni di un futuro passato devastazione questo è un volume interessante scritto a Mark Guggenheim e disegnato da Manuel Garcia da decenni sui x-men incombe il cupo futuro narrato nella storica saga di Chris Claremont giorni di un futuro passato che poi ha ispirato la versione cinematografica appunto della Fox ma come si è arrivati a quel domani in cui i mutanti vengono braccati dal governo e rinchiusi in campi di concentramento questa è una visione interessante che ci fa vedere un pochino come si è arrivati agli eventi di giorni di un futuro passato chi ce lo racconta ciò racconta Mark Guggenheim risponde appunto a questa e altre domande svelate il ruolo degli altri eroi Marvel e di Magneto nella caduta dei mutanti e poi abbiamo x-men presenta Magneto mutante malvagio di De Matteis sua santità e Todd Nock un volume da 104 pagine da 14 euro scritta proprio scritta e pubblicata nel 2023 che però riprende un pochino quelli che sono i temi lasciati tra gli anni 80 e gli anni 90 perché De Matteis ci riporta gli anni in cui Magneto dirigeva la scuola Xavier al posto di Cialone e con Polso Deciso destrava i New Mutants quindi storia interessante ci viene raccolta anche il processo di Magneto pubblicata invece nel 2020 tra il 2020 e il 2021 saga interessante che voleva appunto Magneto come primo sospettato per l'omicidio della figlia Scarlett una storia che all'epoca ho gradito parecchio e adesso viene raccolta tutta in volume unico un volume unico appunto da 38 euro mi sembrano un po' tanti per questa storia zio pera questo invece se non l'avete se non l'avete recuperato dovete recuperarlo e questa probabilmente è l'edizione migliore per farlo in attesa di un omnibus proprio appunto di Marvel Italia perché abbiamo Immortal Hulk in questo caso vengono raccolti appunto i primi 10 numeri della serie in un volume cartonato alternativo a quelli che già stanno uscendo perché è un pochino più ciccione infatti ha 248 pagine costa 31 euro prendetelo basta punto fine se non ce l'avete se non l'avete letto se non sapete che fare se non sapete che storia comprare questo mese date priorità in Mortal Hulk andiamo avanti con Amazing Spider-Man Gang War le guerre di bande la saga originale che ha ispirato la nuova Gang War infatti la nuova Gang War ha appunto un titolo omonimo a un classicone in realtà degli anni 70 e 90 le storie originali di quegli anni che hanno ispirato Gang War il dottor Octopus contro testa e martello per il controllo di New York scomparso Kimping le bande si contene nella città grazie a Hobgoblin e Jack Lanterna il nuovo Spider-Man e Daredevil fanno i conti con l'Hydra e il nuovo boss Don Fortunato a scrivere infatti il sorridentissimo buonanima Stan Lee John Romita Senior Christopher Priest ah Warmeck insomma ragazzi bellissimo questo è veramente un gran bel volume questo 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 secondo me è molto intrigante ragazzi veramente molto faccio fatica a fare una classifica di questo mese di marzo però a me parte uno stipendio veramente complicato è complicato star dietro queste uscite cosa ci propone invece la linea must have ci propone da un lato Black Widow di Devin Grayson Greg Rooka J.G. Jones Scott Hampton e altri autori le storie appunto della vedova nera pubblicate sulle pagine della collana Marvel Knights dall'altro lato abbiamo Daredevil Redenzione storia molto molto bella molto intrigante di David Hine e Michael Gados veramente una storia forte una storia forte recuperatela in volumone con Sleepcase in Giant Size Edition troviamo invece la guerra dell'infinito appunto raccolti tutti i numeri di Infinity War scritta dal maestro Jim Stardine disegnata da Ron Lim questo è il secondo capitolo della Tridogia dell'infinito che appunto segue il leggendario il guanto dell'infinito dopo gli eventi appunto del guanto dell'infinito il magus torna in scena il magus che ricordiamo essere un alter ego malvagio praticamente l'anticristo di Adam Warlock e punta a ottenere il potere supremo riusciranno gli sforzi congiunti degli eroi della terra a fermare i suoi diabolici piani per governare l'universo un pezzo di storia del fumetto americano ed effettivamente lo è guardate quanto sono belli i costumi vintage di quel periodo sui personaggi guardate che meraviglia l'armatura di Tony i costumi di di Storm accidenti per questo bisognerebbe parlare due ore come si fa marvel omnibus anche in x force ciclo leggendario di rick remander jeromo pegna phil noto ezad ribic che abbiamo incontrato a cartumix ragazzi veramente la miglior formazione di x force di tutti i tempi bellissima con dei costumi fantastici in bianco stupenda psylock arcangelo deadpool e phantom ex si uniscono alla squadra segreta di assassini capitanata a wolverine la prima missione di x force li vede opposti al terribile apocalisse appena tornato dall'oltretomba queste sono storie della della prima della della seconda metà del 2000 quindi stiamo parlando dei primissimi 2010 11 12 e veramente fantastiche fantastiche 90 euro 928 pagine raccoglie tutto e questo sarà un acquisto essenziale l'avevano presentato con mia esultanza da stadio a lucca comics e aspettavo proprio l'annuncio quindi meraviglioso wow no assolutamente da recuperare all'epoca leggevo queste storie su extreme x-men o meglio x-men deluxe che era appunto questo spillatino un pochino più abbondante che veniva pubblicato appunto anche da edicola e sognavo proprio storie fantastiche pongono tra l'altro dei dilemmi etici e morali enormi ai membri e la squadra che sono degli spietati assassini poi il carisma di phantom x per me è assoluto e vi potrebbe veramente se vi piacciono le storie strong con personaggi hard che che non hanno paura a menare le mani questo è il volume per voi ovviamente io vi ricordo di iscrivervi al canale mettere mi piace commentare e dirci quello che è appunto il volume che più attendete ci vediamo alla prossima ciao ciao